Le spese non pagate. Accordo tra il Gruppo Espresso, La Repubblica e la Stampa di Torino. Nasce il primo polo editoriale italiano nella carta stampata e la Fiat annuncia l'uscita dal Corriere della Sera. Francesco Di Mario. Una rivoluzione nel mondo dell'informazione. Il Gruppo Espresso Repubblica, controllato dalla Ciri di Carlo De Benedetti, ha firmato un'intesa con Fiat Chrysler, rappresentata da John Elkan e Famiglia Perrone, per rilevare l'Aitee di la società che pubblica la stampa di Torino e il secolo XIX di Genova. Giornali che, come La Repubblica, manterranno piena indipendenza editoriale, dice una nota. Per l'amministratore delegato di Ciri, Monica Mondardini, è un accordo di grande valore industriale che anticipa il processo di aggregazione del settore. Rodolfo De Benedetti, presidente di Ciri, parla di un'operazione che fa crescere il Gruppo Espresso e crea valore per gli azionisti. Una svolta anche generazionale, considerata l'età dei protagonisti, che cambia il panorama della carta stampata. Al termine del percorso, entro un anno, nascerà una nuova società con la Ciri, primo azionista e partecipazioni minori di Exor, Perrone e dei soci FCA, azionariato nel quale Ciri intende definire un accordo con Exor. Il nuovo gruppo avrà 750 milioni di ricavi e una quota di mercato poco sotto il 25%. Ma non è questa l'unica novità. John Elkan, che riguarda l'operazione con la Ciri, parla di un avvincente progetto imprenditoriale con il quale nasce la società leader dell'informazione, annuncia anche l'uscita da RCS, editore del Corriere della Sera, mettendo sul mercato il suo 16,7%. E anche questa è una rivoluzione.